Bimbo antico, dove vai? Il primo che ha conservato dei semi, li ha piantati in terra e ci ha versato sopra l'acqua. Il primo che ha costruito due ali di pelle d'asino, se le è montate sulla schiena e si è buttato dalla torre del paese. Il primo che ha posato la sua bocca sulla bocca di un'altra persona per farle sentire quanto la amava. Uno ha inventato l'agricoltura, uno è stato il primo a volare, l'altro ha dato il primo bacio della storia. E hanno questo in comune, che tutti li hanno guardati come pazzi, un attimo prima che cambiassero il mondo. Lo stesso succede il 5 giugno 1994, quattro anni prima che mi arrivasse quella cartolina maledetta, quando inizia la salita del mortirolo e un ragazzino sconosciuto sale sui pedali e parte. Davanti c'è un gruppetto di attaccanti, con dentro il suo capitano Claudio Chiappucci, soprannominato El Diablo. Il ragazzino invece un soprannome non ce l'ha, non si sa nemmeno il suo nome vero. Per meritarsi l'attenzione dei tifosi ci vuole qualche impresa sulle strade del grande ciclismo. Ma non adesso, perché il suo capitano è all'attacco, lui doveva lasciarlo fare e starsene buono là dietro, mica scattare così, col rischio di riportare il gruppo sugli attaccanti. I telecronisti lo fanno capire con un giro di parole, al bar La Gazzella invece il mio babbo e i suoi amici con le parole vanno sempre dritti. Ma dove cazzo va quello lì? E per qualche motivo lo chiedono a me. Forse perché abbiamo più o meno la stessa età, è una domanda alla nostra generazione cialtrona, che non sa cosa fare e infatti non fa nulla e le poche volte che ci prova fa una cazzata. E io non so rispondere. Ho vent'anni precisi, sono al primo anno di università, fra poco ho la prima sessione di esami e infatti quasi quasi oggi non ci venivo a guardare la tappa al bar. Forse resto a casa, un po' la seguo e un po' ripasso. L'ho detto al babbo e lui ha fatto di sì, poi mi ha agguantato per la maglia con la mano che gli trema sempre di più per la malattia. Però è ancora forte, infatti mi ha messo a sedere sull'ape tra gli attrezzi e un pezzo di tubo e via al bar. Chi l'ha detto che scegliere è complicato? A volte è facile, basta non restare troppo rigidi quando il destino ti prende per la maglia. E oggi mi sembra pure di avere scelto bene, perché è appena cominciato il mortirolo e già ci sono attacchi alla tv e gente che urla lungo la strada e qui alla gazzella. E urla appunto, ma dove cazzo va quello lì? Quello lì è il ragazzino fuori di testa che ha vinto la tappa di ieri. Un attacco pazzo nel finale, ha preso vantaggio sull'ultima salita staccando i campioni nella pioggia, poi giù a 90 all'ora sull'asfalto bagnato, in una posizione col culo dietro la sella che se prendeva un sassolino gli facevano saltare il passaggio all'ospedale per portarlo dritto al cimitero. Però è andata bene, non è caduto e nessuno è stato così folle da provare a stargli dietro. Ha vinto la sua prima corsa da professionista, addirittura una tappa al giro d'Italia. Un giorno di gloria, interviste, telefonate in lacrime, di mamma e fidanzata, gli deve bastare così. Eppure non gli basta. Oggi il babbo e i suoi amici scoprono che il loro passato non è passato per niente, è là che vola lasciandosi alle spalle tutto il resto. E invece io, nell'urleria scalmanata, riesco a sentire pezzi della telecronaca e scopro di avere un fratello maggiore. Si chiama Marco Pantani, ha quattro anni più di me, è nato e vive in un paesino turistico sul mare, come me. È il figlio di una casalinga e di un idraulico, come me, come me, come me. Che urlo e salto, e urlano e saltano i vecchi al bar, è il mare di persone di ogni età che allaga la salita del Santa Cristina e si apre in due solo all'ultimo istante per farlo passare. Sono arrivati quassù stamani a piedi, oppure ci hanno trascorso la notte per vedere i corridori e riconoscere Indurain, Bugno, Berzin, Chiappucci e gli altri grandi nomi da gridare. Mica lui che non lo conosce nessuno. Eppure, in qualche modo misterioso e magico, lo riconoscono. I tifosi sul Santa Cristina come i milioni di persone nelle case, nei negozi, negli ospedali e nei bar. Ci abbiamo messo un po', ma per forza, passiamo la vita aspettando un miracolo che non arriva mai. E se un giorno dopo, tanta attesa, il miracolo finalmente succede, è così impossibile, così diverso dal resto, che lo prendiamo per un errore. Ma è un attimo, poi capiamo. Che questo qui non è un ragazzino che ha osato attaccare i grandi. Questo che vola davanti ai nostri occhi spalancati, tra i pugni scossi al cielo e gli schizzi d'acqua, e gli urli bestiali per spingerlo fino all'arrivo, è un nuovo, immenso, formidabile campione. È così, nel tempo di una salite e una discesa, è successo quello che tante volte non riesce in una carriera intera. Il ragazzino spelacchiato è diventato Pantani. Vola verso il trionfo e guadagna così tanto che se ci fossero altre salite serie rischierebbe di vincere il giro. Invece arriverà secondo, così dal nulla a 24 anni. E allora il prossimo anno di sicuro il giro lo vince. Bisogna aspettare 12 mesi, ma cosa sono per un talento così che in un attimo ha riportato il ciclismo indietro di mezzo secolo? Non sono nulla. Infatti chiudiamo gli occhi ed ecco che inizia il giro d'Italia del 1995. Ma Pantani non c'è. Poi quello del 1996, ma Pantani non c'è. Poi quello del 1997, ma Pantani ancora non c'è. Per una serie di sventure che se te le inventi in un romanzo ti dicono che è troppo, che hai esagerato e non è credibile, non è realistico. Auto che saltano gli stop, sportelli che si aprono di colpo, jeep lanciate dalla foresta giapponese, amputazioni facili, gatti maledetti. Tutto può far succedere la realtà per tenere quel ragazzo inchiodato a terra in attesa della sua occasione. Ma adesso sono passati quattro anni. Comincia il giro del 1998. E stavolta la realtà ha deciso che Pantani c'è e si prepara a scrivere la sua storia. E la realtà è la scrittrice più grande che ci sia. Pagina 26